Penso che nel momento in cui dovresti rendermi conto effettivamente di essere una serie di figure, in quello stesso momento probabilmente appazzirei di tutto, cioè non penso che riuscirei a dare. Se desidera segnalare un guasto, prema 1. Se desidera segnalare un guasto, prema 1. Se desidera segnalare un guasto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.